Ciao a tutti e benvenuti a Giallabook, le video e recensioni su libri gialli. Oggi ci vediamo il 42esimo unboxing, nonché il contenuto di questo pacco. Allora, questo pacco si compone di lui, ho scelto lui perché mi ha incuriosito, cioè non ho letto la trama ma conoscendo l'autrice mi ha incuriosito il fatto che me ne ha parlato, ecco, mi ha fatto qualche spoiler, mi ha incuriosito. Di questo arriverà recensione quanto prima. E poi si compone anche di questo libro. Ho scelto questo libro perché è il seguito di un altro libro di questa stessa autrice che ho letto. E siccome ero curioso di sapere come andava a finire la storia della protagonista, ho deciso di leggerlo. Anche di questo arriverà recensione quanto prima. Bene, detto questo fatemi sapere cosa ne pensate, se li avete letti, se vi ispirano, se li comprereste. Vi ricordo che se vi piace il video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campagna se vi va. Che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete iscriverle sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. di consultare di tanto in tanto la sezione community del mio canale, di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione, di farmi sapere sempre nei commenti se e quali nuovi format volete che io porti sul canale. E vi ricordo, oltre a condividere questo e o altri video del mio canale con i vostri amici, che venerdì 21, ore 21 e 20, sarò in live qui su YouTube. Siateci! Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi auguro una buona giornata. Ciao! Ciao!